Da 17 anni a questa parte è l'ospite fisso e sicuramente poco gradito che accompagna le stagioni estive di chi lavora negli stabilimenti balneari. La direttiva Wolkenstein le discussioni su come e se applicarla alle concessioni di maniali in Italia ha dal giorno della sua approvazione avvenuta nel dicembre del 2006 un lettino e un ombrellone riservati su tutte le spiagge italiane. Almeno ce la immaginiamo così. Occhiali da sole e bibita in mano ha trascorso questi anni ad osservare incurante il continuo succedersi di provvedimenti prese di posizione rassicurazioni e successive smentite che la vicenda ha generato a livello politico e di confronto istituzionale. Tra decreti sentenze mappature e gare lei la direttiva è sempre rimasta lì in attesa del suo giorno e adesso sembra davvero essere arrivato il suo momento. Dal primo di luglio mancheranno 184 giorni alla fine del 2024 scadenza entro la quale il consiglio di Stato ha ribadito l'obbligo a completare i bandi di gara per le concessioni balneari con il governo che sembra aver abbandonato l'idea di escludere le spiagge della direttiva per rassegnarsi a regolamentare le procedure selettive. Secondo il consiglio di Stato noi siamo scaduti l'anno scorso il 31 dicembre 2023 però sempre il consiglio di Stato dice che quest'anno possiamo lavorare quindi noi siamo legittimati a lavorare sulle nostre concessioni demaniali e la prossima scadenza il 31 dicembre 2024 con un governo come i governi passati perché in 16 anni li abbiamo provati tutti assente. I comuni sono nel mezzo e i comuni vengono incaricati sempre dal consiglio di Stato di fare le procedure di assegnazione delle concessioni demaniali senza aver nessuna indicazione dal centro quindi comunque in qualche maniera si stanno muovendo noi manteniamo i contatti per cercare comunque di collaborare in questo senso. Intanto la stagione entra nel vivo il meteo di queste settimane di giugno non ha certamente aiutato ma fanno ben sperare le prenotazioni per luglio e agosto che fanno registrare il tutto esaurito con i turisti che riducono i periodi di permanenza ma continuano a scegliere il mare della Liguria e le sue spiagge. Siamo passati da tutta l'estate a periodi un pochino più brevi però abbiamo ancora tanti stagionali tanti che fanno il mese e poi si alternano magari le famiglie insomma fanno un po come possono però c'è una bella clientela tanti locali tantissima Lombardia e poi qualche regione limitrofa.